Amiche, oggi siamo qui riunite in questo video makeup tutorial, insomma come vogliamo chiamarlo e sono molto felice di questa cosa, di questo video, di questo makeup perché tratta di un argomento che mi sta molto al cuore l'utilizzo delle palettes, delle vecchie palettes che abbiamo nei cassetti quindi riapriamo questi benedetti cassetti, riapriamoli e riscopriamo quelle che erano le chicche e le gioie di una volta il protagonista del video di oggi, del makeup di oggi è la palette di Nars per Menrei cioè chi si ricorda questa palette? è stato bellissimo riscoprire questa palette, riutilizzarla e ragazzi i colori scrivono tutti da Dio sperando che non mi venga nessuna congiuntivite perché è abbastanza vecchia insomma questa palette riscopriamo le nostre vecchie palettes comunque vi lascio al tutorial, spero che questo makeup vi piaccia è un makeup molto portabile, da sabato sera ma perché no anche da cerimonia ma perché no come me anche ricrearlo e poi andarsi a struccare per andare a dormire parto disegnando le sopracciglia che mi faranno da cornice per l'occhio vado a sfumare, applicare, sfumare il correttore e lo vado a fissare questa sarà la base per il nostro gel eyeliner di Inglot che utilizzeremo appunto per realizzare la struttura del nostro makeup vado a realizzare un eyeliner che poi vado a sfumare con un pennellino piccolino da precisione il che mi permetterà di essere molto precisa e di lasciare la sfumatura più scura proprio all'esterno dell'occhio lì dove ho deciso che insomma deve essere applico e sfumo il prodotto finché non arrivo all'intensità che desidero comincio dalla prima sfumatura con un pennello da sfumatura ampio ma non troppo applico questo color pesca scuro, terracotta insomma chiaro nella parte esterna arrivando fino alla parte centrale dell'occhio e sfumandolo verso l'esterno rimango circoscritta con la sfumatura per quanto riguarda questo colore verde militare lo applico lì nella zona più esterna dell'occhio per dare definizione e profondità all'occhio sotto applico la matita marrone che ci farà appunto da base grassa e applico sotto gli ombretti che abbiamo utilizzato nella parte superiore vado a realizzare una riga di eyeliner per dare definizione all'attaccatura delle ciglia ed applichiamo questo color champagne nella zona interna dell'occhio fino ad arrivare a metà occhio quindi a congiungerci con la sfumatura quella pesca applico il mascara ovviamente immancabile ragazzi questo qui di Wicon è molto molto bello mi piace molto lo scovolino e volumizzante ed allungante per le labbra la 22 di Kiko delle creamy molto bella da utilizzare sia da sola ma anche come rossetto se vogliamo perché cremosa ma long lasting allo stesso tempo sopra ho deciso di applicarci l'hydra sheer di Wicon che mi sta piacendo tantissimo per lasciare le labbra sia idratate ma soprattutto da questo effetto rimpolpato, idratato e specchiato che ultimamente mi sta piacendo tantissimo come vedete il makeup è stato davvero facilissimo da realizzare io spero che vi piaccia se lo ricreato mi raccomando fatemelo sapere nei commenti o taggatemi nelle vostre foto e niente vi mando un bacio e ci vediamo con il prossimo look ciao